I tappi da vino decorativi sono molto di moda, sono apprezzati come regali e sono facili da realizzare in casa. Si può usare di tutto e personalizzarli in un'infinità di modi. Una palla sportiva va benissimo, così come la maniglia di una porta o altri oggetti. O del filo. Si può rendere il tappo più morbido avvolgendolo in un bozzolo di filo. I tappi di sughero si trovano facilmente in qualsiasi negozio per la casa. Io li rinforzo usando questi tasselli a espansione da 2,5 cm disponibili nei negozi di autoricambi. Poi inserisco un perno di legno di 3 cm per dare stabilità all'oggetto. Faccio un buco nel tassello e nel tappo, li unisco e la base di supporto è pronta. Ok. Per farli aderire perfettamente uso due pezzi a incastro. Fai un buco nella parte che va sopra, un altro buco lì e poi li incolli insieme. Sembra una cosa semplice. Sì, certo. Se ce n'è bisogno si può fare anche all'ultimo momento.